molto piacere e tu sei, da quanto ho passato questa volta, tu sei l'ultima figura carismatica del nuovo corso del calcio ti senti questa responsabilità di essere capitano in serie A, capitano in pro A, in lega pro A quindi tutta la gente che ti aspetta, ti aspetta cultura carismatica e poi a direttore con le chiedere se sono una figura carismatica in corso, anche non giocatori di squadra se si possa affinare la maratita intanto per me credo sia un onore, un piacere essere di nuovo capitano del Catania che sia in A, in B o in C, penso sia veramente uguale per chi ama un colore, per chi ama dei colori, per chi ama una maglia quindi sono veramente felice di questo e basta, quindi niente, so, ho pensato anche facendo la scelta Catania sapeva cosa sarei andato in conto anche a livello di pressioni o altro, tra virgolette comunque la gente si aspetta tanto a me e va bene mi metto in primo, mi metto davanti, come ho detto prima facendo vedere ai miei compagni la strada quella giusta, di lavorare e tutto quindi so che c'era pressione ma è una scelta che ho fatto insomma sono felice, per riesco ad aver fatto questa scelta non avere impianti, che magari essere andato ad un'altra squadra avere l'impianto di non essere tornato uguale, di aver rifiutato questa offerta veramente un'emozione indescrivibile il ritorno anche a Catania, ma si è annunziata con tutta la gente, insomma fa vedere che la città ama veramente questa maglia come dice il direttore forse anche più di Sant'Agata e quindi non merita naturalmente una piazza così la Serie C con tutti questi spettatori, tutta questa voglia e partecipazione da parte della città quindi ci auguriamo il prima possibile naturalmente di risalire ripeto, è un anno particolare, sarà un anno spero bello ma il campionato è difficile quindi noi sicuramente ce la metteremo tutta per tornare il prima possibile in Serie B e naturalmente spero da questa... Play basso o mezzala? Eh, il mister, alla fine lo vedrete, farete stessa domanda negli ultimi anni ho accantonato un po' il play basso però meno male anche quando ero qua con Mijalovic l'ho fatto spesso e insomma anche le mezzale mi hanno fatto sia a destra che a sinistra quindi per me è uguale nel senso, poi vedremo Senti, quanto pensa questa fascia del capitano o anche il Lega Pro? No, il peso ripeto non c'è perché comunque per me è un piacere portare lo dicevo agli anni in Serie A quindi per me lo è anche in Serie C portare la fascia al braccio insomma andando in trasferta in una città intera insomma e ripeto come diceva anche il direttore non è importantissimo essere capitano l'importante è che veramente io in prima persona e tutta la squadra riesca a dare sempre tutto per questa società Grazie!